Nuovo danneggiamento da parte di Gnoti al tenso statico del Parco Bucicchio, al quartiere Sant'Elia di Brindisi. A denunciare il terzo episodio in questi primi giorni di gennaio l'assessore alla legalità Mauro Masiello, che ha manifestato tutta la sua preoccupazione e quella dell'amministrazione comunale, per questi episodi che hanno caratterizzato l'avvio del nuovo anno e sui quali si sta cercando di fare luce, per comprendere se si possa trattare di ragazzate o di qualcosa di più rilevante. Il Bucicchio è per noi un laboratorio che cerchiamo di portare avanti con i ragazzi del comitato del Parco Bucicchio e vi è stato uno sforzo notevole sia dei ragazzi sia da parte dell'amministrazione, quindi questi eventi che si sono ripetuti a breve distanza l'uno dall'altro, nel mese di gennaio sono avvenuti tre danneggiamenti, ci preoccupano molto, anche perché è un danno che si fa sia all'attività sportiva, perché la ginnastica temese che ha in affidamento il pallone ha atleti a livello nazionale, probabili olimpionici, sia anche perché questi danneggiamenti, anche solo per prendere gli spiccioli o il contenuto del distributore delle merendine, creano poi un grosso danno, hanno portato via anche la telecamera, hanno portato via anche delle casse, siamo molto preoccupati.